il loa prasat la struttura di cui parlavo questa mattina ora in due parole voglio darvi una piccola panoramica di questa particolare ed unica struttura loa prasat o anche monastero di ferro o tempio di ferro è una struttura del tutto unica unica al punto che ne esistono solo due in tutto il mondo solo altre due in tutto il mondo in india e una in sri lanka c'è da pagare l'ingresso ragazzi ma costa una stupidata ergo 20 bat pochi centesimi e tra l'altro non c'è il cassiere ma c'è la cassettina tipo delle offerte quindi è da stupidi non pagare non facciamo io non ho di certo però anche voi se venite qua non fate non tirate fuori la parte più brutta dell'italiano diciamo la parte del furbetto ecco cerchiamo di fare cerchiamo di essere gli italiani la parte degli italiani più bella che c'è quando vai in giro buona andiamo dentro ragazzi è un vero labirinto sto posto dentro e fuori ragazzi c'è anche un mercato degli ammolete abbastanza carico non regge il confronto però con quello vero e proprio di bangkok sul cioffaia basta adesso vado a tagliarmi i capelli ci vediamo dopo no no it's differente non era così no it's not sensorial no Sam ma che cazzo Akt hai giorni mai voce enten Ok una macchina ma che cazzo ti vedi la foto di nuovo no 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 ok no 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 Ok, ok, non preoccupi. Grazie a tutti. E' un'accia. Ok, e' un'accia.